Nell'anticipo della nona ed ultima giornata di andata del campionato di eccellenza femminile, all'antistadio Flacco la cantera triatica ospita il campo di Pietra, per un match d'alta classifica e senza esclusione di colpi. La formazione molisana, infatti, vuole accorciare il distacco dalla vetta, occupata proprio dalle pescaresi, ancora a punteggio pieno. L'intensità è alta sin dall'avvio, ma le due squadre cercano di limitare gli spazi. Dopo quattro minuti D'Angelo spaventa Nardulli con una punizione dalla lunghissima distanza. Al quindicesimo squillo di Masciulli, che arriva al limite dell'area e calcia. Caserio si distende e manta in corner. La cantera cresce con il passare dei minuti e Masciulli diventa incontenibile. La numero dieci prima si infila in aria con una serpentina e impegna Caserio, e poi con un filtrante serve Di Fazio, che non ne approfitta. Al ventisettesimo cross pericoloso di Calvano, Zito sottoporta non trova la deviazione vincente. Al quarantunesimo, Masciulli lancia in verticale per la corsa di Calvano, che prova il pallonetto, tentativo debole. Sul finire del primo tempo, il campo di pietra si riaffaccia in avanti con un'altra punizione di D'Angelo, che non trova il bersaglio. Si va a riposo sullo 0-0. La ripresa si apre con il vantaggio della cantera al quinto. Funziona alla perfezione l'asse Masciulli-Fusco. La numero otto davanti alla porta è fredda e batte Caserio. Al quindicesimo, azione confusa nell'area morisana. La difesa non riesce a spazzare, ma Sciulli in diagonale fa la barba al palo. Poco dopo, azione personale di Fusco dalla destra. Calvano spedisce alto, un rigore in movimento. Al ventottesimo, ghiotta occasione per il campo di pietra. Punizione di D'Angelo, Nardulli con i pugni respinge sui piedi di Ciocca, che si divora l'1-1. Pari, che arriva in moto rocambolesco due minuti dopo, cross di D'Angelo e deviazione sfortunata di Cicala, che beffa Nardulli. La cantera ci prova fino alla fine, ma nulla di fatto. Cantera adriatica campo di pietra, 1-1. Siamo state sicuramente sfortunate. Penso che abbiamo giocato molto meglio e meritavamo sicuramente di vincere. Sì, sicuramente dispiace un po'. Volevamo portare a casa sicuramente un'altra vittoria, però va bene così, va bene anche così. Abbiamo dimostrato comunque che siamo una bella squadra, quindi va bene. Allora, innanzitutto io mi complimento con le ragazze perché siamo campioni d'inverno e abbiamo fatto un ottimo girone di andata. Abbiamo dimostrato oggi sul campo una netta superiorità di gioco per ciò che mi riguarda. Il gol è stato l'unico tiro in porta che ne era un non tiro in porta. Mi dispiace perché c'era una ragazza a terra e questi episodi non dovrebbero accadere, purtroppo. Sono felicissima della prestazione. Abbiamo delle assenze nella fase offensiva e si sentono. Per ciò che riguarda l'altra squadra posso dire che sicuramente erano ben messi in campo, ma abbiamo sprecato un po' troppo nel primo tempo e abbiamo risentito di questo errore con un'ingenuità un po' ingiusta. Noi siamo venuti qua per giocarci la partita, ma come sempre dove andiamo giochiamo. Purtroppo noi siamo un gruppo, innanzitutto sono un gruppo di ragazze tutte locali, quindi non possiamo attingere da altre regioni, perché come prima volta che partecipiamo a questo campionato, quindi abbiamo fatto questo campionato solo per vedere un po' la situazione, come andava. Quindi adesso abbiamo iniziato questo campionato, abbiamo iniziato con dei dubbi perché la squadra l'abbiamo composta da poco. Quindi piano piano abbiamo visto che le ragazze rispondevano e quindi abbiamo alzato un po' pure noi il livello. Però per quanto riguarda oggi la partita faccio i complimenti alla squadra che è capolista perché se lo merita tutto. Il pareggio secondo me rispecchia un po' la partita, a prescindere che loro hanno fatto l'autorete e quindi ci sta pure. Però diciamo tutto sommato sono contento delle ragazze che avevamo pure qualche infortunata che doveva giocare e quindi poi l'ultimo si è infortunata. Quindi tutto sommato oggi è andata abbastanza bene per la squadra del campo di Pietro.